Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini, in A11, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci in FIPILI, code per viabilità esterna che non riceve in uscita la Strassigna provenendo da Firenze, sempre in direzione mare, code per un veicolo fermo in avaria al chilometro 6.500 tra l'Astrassigna e Ginestra Fiorentina e un chilometro di coda per lavori tra Ponte d'Era Est, Ponte d'Era Ovest e Ponsacco. Su raccordo Siena-Firenze, verso Siena, code tra Colle di Valdelsa Nord e Colle di Valdelsa Sud, rallentamenti per lavori tra Firenze in Pruneta e San Casciano in Val di Pesa in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, buon viaggio!